Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, pagina politica in apertura del notiziario. Vi riferiamo dell'adesione del deputato nazionale Alessandro Pagano alla Lega dei Popoli, noi con Salvini. Lo abbiamo sentito. Onorevole Pagano, lei ha ufficializzato qualche mese fa il divorzio con il nuovo centrodestra e oggi invece ufficializza il nuovo matrimonio con noi con Salvini. Un matrimonio fatto con gioia perché sono spesso matrimoni che sono costruiti per interesse. Non è sicuramente il mio caso, visto che avevo deciso di archiviare quella parentesi politica col mio precedente partito pensando di non fare più politica. Invece è accaduto che Salvini col suo progetto Lega dei Popoli mi ha convinto, nel senso più bello e più nobile del termine, un progetto nazionale che supera gli schemi precedenti, un progetto che vede in noi con Salvini un momento di ponte e che adesso arriva alla conclusione e sapendo bene e chiaro quali sono gli obiettivi. Difesa della famiglia, sacralità della vita, libertà di educazione, economia fondata sulla nostra italianità, quindi uscita dall'euro, quindi uscita dall'Europa come Brexit ci ha insegnato a essere assolutamente possibile e difesa della nostra identità culturale e delle nostre radici. Come vi state preparando alle prossime competizioni elettorali? Quali sono i suoi rapporti con la politica gelese? Io sto in questo momento costruendo in tutta la Sicilia occidentale perché ho la fortuna di avere un bravissimo collega che si chiama Angela Taguile nella Sicilia orientale, quindi io sono il secondo siciliano che arriva e stiamo in questo momento spiegando il progetto. Mi presento e spiego il progetto. Stiamo chiedendo agli uomini di buona volontà che hanno passione politica o che amano meglio ancora di più il nostro popolo siciliano a cimentarsi abbiamo bisogno di classi dirigenti, la stiamo costruendo, ci sono tanti che stanno venendo però ci sono le possibilità di fare veramente di più e quindi proprio per questo motivo l'appello anche a coloro che credono in un progetto di rinascita e di ricostruzione. Detto ciò io voglio anche dire che per quanto riguarda gli appuntamenti futuri ce ne sono tanti, in provincia no, in questa provincia di Caltanissetta no, ma in Sicilia tanti, mi riferisco alle comunali di Catania, di Palermo, le regionali tra un anno, è chiaro che abbiamo le idee chiare su come le dobbiamo affrontare questo argomento e quindi come vedete un progetto concreto. Grandi ideali, grandi principi, buoni sentimenti e concretezza vogliamo amministrare perché abbiamo dimostrato dovunque, amministrato la Lega e amministrato bene. Se sono stato scelto e io sono stato convinto lo si deve sicuramente al mio vissuto personale ma anche perché ho dimostrato in passato di avere saputo ben amministrare. Di questo sono orgoglioso e ringrazio Salvini che ovviamente ha voluto tutto ciò. Infine, politicamente parlando, aggiunge immediatamente una pedina. A Gela il consigliere comunale Farruggia aderisce al partito. Si, aderisce, però non dimentichiamo gli amici che c'erano. Antonio Giudice che è stato nel movimento Noi con Salvini e che si è presentato quando i tempi erano difficili, ovviamente lo dobbiamo ricordare, ma devo dire che ci sono tante altre persone e ne sentiremo delle belle nei prossimi mesi. E conseguente è stata anche l'adesione al partito del consigliere comunale Salvatore Farruggia. Sentiamo. Anche per lei arriva la rottura dunque con il passato. Assolutamente sì. Abbiamo aderito al partito Noi con Salvini, Lega dei Popoli, proprio perché stiamo accogliendo tutti i problemi che ci stanno ponendo i cittadini e prendiamo spunto dall'allora Lega Nord e facciamo ben distinto. Noi non siamo la Lega Nord, ma siamo un distaccamento della Lega Nord nelle nostre regioni per cui accogliamo tutte queste problematiche e ci poniamo nei confronti del cittadino per affrontarle, per dedicarci in maniera più importante e più pretestuosa nel nostro territorio. Quale sarà il suo contributo all'interno dell'assise civica? Il mio contributo rimane quello. Sono entrato come consigliere d'opposizione, rimarrò un consigliere d'opposizione. Ovviamente sarà la mia, come ho sempre fatto finora, un'opposizione costruttiva, nel senso che ci saranno degli atti importanti da valutare. Noi li valuteremo assolutamente, li voteremo in maniera adeguata, in maniera costruttiva. Se non ritengo che siano importanti o rilevanti per la cittadinanza, ovviamente. Il mio ruolo di opposizione non mi farà altro che votare in maniera contraria. E invece al futuro come guarda? Normalmente guardo bene. Vediamo cosa succede nell'ambito del centro-destra, perché chi ci conosce siamo sempre stati all'interno del centro-destra e aspettiamo indicazioni per quanto riguarda il futuro. Però, come ha detto l'onorevole Pagano, è giusto cominciare pian pianino, con i piedi di piombo, partendo giorno dopo giorno, per cominciare a ricostruire finalmente quella casa che tutti ci chiedono, quella casa che un giorno avevamo e che speriamo si possa ricostruire nel bene comune della cittadinanza, del nostro territorio e della nostra regione. Pronto a nuove alleanze? Ci faccia riflettere, ci aggiorniamo non appena non ci saranno tutto questo torpori in giro. Prosegue fino a domani alla Villa Comunale Garibaldi di Gela, la festa dell'unità promossa dal Partito Democratico. Oggi alle 16, sfilata di auto e moto d'epoca. Alle 17.30, tavola rotonda su programmazione sanitaria regionale, un'opportunità di rilancio per il territorio. Sarà presente tra gli altri l'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi. Alle 18.40, spettacolo di giocolerie e contact con Fabrizio Campo. Alle 19.15, incontro su essere donna, tra impegno civile e politico. Alle 21.15, musica e spettacolo con Andrea in furna e in France. Domani alle 16.30, assemblea aperta dei circoli, dei segretari e degli amministratori del Partito Democratico. Alla presenza del segretario regionale e deputato nazionale, Fausto Raciti. Alle 17.30, incontro su Europa e agricoltura, assi di sviluppo. In questa occasione sarà presente l'assessore regionale all'agricoltura, Antonello Cracolici. Alle 20.00, incontro su rapporto tra autonomia regionale e la riforma costituzionale. Con Enzo Bianco, sindaco di Catania. Alle 21.45, conclusione, consegne, targhe, ricordo. Fermare il declino, mobilitazione per un nuovo sviluppo della città. Il tema dell'incontro dibattito promosso dal Polo Civico Popolare, formato dai consiglieri comunali Guido Siracusa e Sandra Bennici, che si terrà domani alle 10.30, nei locali dell'ex chiesetta San Biagio di Gela. Grande affluenza di pubblico alla due giorni della Biennale dell'Economia Cooperativa, che si è svolto al Teatro Massimo di Palermo. Per i 130 anni della Lega delle Cooperative, presente l'imprenditore gelese Giovanni Salsetta, presidente della Costruzione ed il Ponti e componente della presidenza dell'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e membro della direzione regionale di Lega Coop Sicilia. Salsetta ha rievocato gli anni bui delle pressioni e intimidazioni di stampo mafioso. Lo abbiamo sentito. Chiedo subito che sensazione ha provato. Una bellissima sensazione. Mi sono trovato in una tavola rotonda con personaggi importanti. Per me è stata una grande emozione, un privilegio esserci. Infatti ho ringraziato subito dell'invito. Bello, bello veramente comunque. Lei ha parlato proprio degli anni bui che si sono registrati a Gela tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. La sua testimonianza è stata molto apprezzata. Può dirci esattamente cosa accadeva in quel periodo? Sì, sì. Io ho parlato proprio degli anni bui dove noi siamo stati colpiti e attaccati da indimidazioni malavitose proprio gli anni 2000. Ho parlato di quello che ci è successo. Il problema che noi abbiamo avuto con il consorzio Conapro, quindi attaccati dalla malavita con disastri molto forti, con l'abbandono anche della nostra società. Ci sono stati periodi critici, periodi di paura, ma abbiamo ripreso tutto dopo aver fatto le denunzie e quindi abbiamo riacquistato la nostra società e quindi dopo tutto è stato facile andare avanti. Abbiamo anche dimostrato che la denunzia è la cosa più importante che si deve fare perché con la denunzia e con l'aiuto quindi delle forze dell'ordine si ritrova il coraggio, la dignità che si è perso durante le azioni malavitose. Lei in quel periodo poteva anche scappare da Gela, non l'ha fatto perché ha sempre creduto nella città. Ero molto impaurito perché ci vuole tanto coraggio e all'inizio comunque il coraggio non si trova. Ho anche parlato, noi abbiamo formato, sono comunque nel direttivo dell'associazione Antirac e Tagela che secondo me è una delle migliori associazioni che ci sia in Italia e ho parlato che l'unione fra imprenditori, fra commercianti dimostra che si può vincere perché stare tutti assieme si trova il coraggio di reagire, parlare fra di noi ci dà il coraggio di poter denunziare e quindi eliminare chi ci vuole fare del male. E da allora ad oggi tutto è cambiato? Sì, sì, è cambiato tantissimo. Io proprio ieri ho ringraziato il ministro Giuliano Poletti perché anche lui è stato testimone del nostro cambiamento. Lui è stato nel 2010, partecipe all'inaugurazione del nostro impianto di Cassio Estruzzo, l'impianto della legalità che a oggi comunque ci sta dando tante soddisfazioni perché è il primo impianto a Gela, ma non solo a Gela ma in tutto il territorio comunque nei dintorni. E quindi l'ho ringraziato pubblicamente per la sua venuta perché questo ha dato proprio un aiuto forte, una testimonianza che si può sempre fare di più. Tre gelesi sono stati denunciati dalla polizia nell'ambito di un'attività anticrimine. Un pluri pregiudicato di 20 anni è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Un 53enne è stato segnalato per danneggiamento e un 20enne per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia amministrativa e sociale ha ispezionato due attività di intrattenimento del lungomare e del centro storico elevando un'infrazione e controllando 23 persone. Tre gelesi sono stati denunciati dai carabinieri del reparto territoriale per un furto di uva circa 100 chili. I tre avrebbero agito in alcuni fondi nella zona di Butera. La sua vita, il suo lavoro, la sua missione al servizio dei poveri. Il missionario padre Walter Corsini parlerà di tutto questo ai fedeli della parrocchia Sant'Antonio di Gela domani alle 19 in occasione della giornata mondiale della missione. Al fianco di don Michele Mattina il missionario racconterà il percorso intrapreso e i cambiamenti attuati, ma anche le tante cose da fare nei luoghi poveri della terra. Sono più di 150 i missionari servide poveri del Terzo Mondo in rappresentanza di 18 nazionalità che servono giornalmente oltre 1500 bambini grazie alla realizzazione di scuole, mense, dispensari medici e officine professionali. Emanuele Gallo, ma quale risposte attendete da parte delle istituzioni in merito al problema acqua? Noi stiamo cercando di fare delle assemblee cittadine, delle assemblee cittadine che coinvolgono naturalmente quasi tutti, parlo io del lavoratore a tempo indeterminato, poi i pensionati, le casalinghe e anche i disoccupati, per parlare riguardo a tre argomenti importanti, l'acqua, i rifiuti e i servizi sociali. Noi partiremo proprio con delle assemblee cittadine, il 4 a Caltanissetta e a seguire anche Sommatino, poi faremo San Cataldo e tutti i comuni della provincia per cercare di parlare della questione dell'acqua. Guardate che noi come CISL e Adiconsum abbiamo fatto un ricorso al TAR, un ricorso al TAR perché abbiamo impugnato una delibera che ha approvato il commissario del lato idrico e allora da una parte in quella delibera cosa c'è scritto? Che si andrà ad aumentare la tariffa dell'acqua a partire dal 2016 sino al 2019 per circa il 20%, per un totale io parlo che ci sono 5% ogni anno e dall'altra parte questa per quanto riguarda la quota variabile, mentre per quanto riguarda la quota fissa nella delibera è stato scritto che verrà fatto l'adeguamento della tariffa a partire dal gennaio del 2017, mentre la quota variabile dal gennaio del 2016 l'altro a gennaio del 2017. Naturalmente la quota variabile potrebbe portare un incremento all'utente della tariffa, mentre la quota fissa potrebbe portare un risparmio di circa di 50 euro a utente e quindi questo crea enormemente problemi e abbiamo voluto per forza impugnare questa delibera. E le istituzioni, considerato che voi state coinvolgendo le istituzioni comunali, cosa possono fare nel merito? Allora, le istituzioni, così come prevede la legge, è necessario che si adeguano così a quello che prevede la legge, cioè costituire le cosiddette assemblee territoriali idriche. Quindi le istituzioni possono comunque andare ad agire attraverso questa assemblea a calmeriare le tariffe. Quindi è importante la presenza delle istituzioni affinché si adeguano alla legge di riferimento che ha approvato la regione siciliana circa qualche mese fa. Lei parlava di incontri che si terranno sommatino con il Tannissetta, si terranno incontri in Cagela? Sì, noi stiamo parlando solo di incontri con la cittadinanza e noi abbiamo chiesto anche la presenza delle istituzioni a fianco di avere alla preoccupazione. Questo per quale motivo? Perché ci dobbiamo confrontare pubblicamente attraverso queste assemblee cittadini nei territori e questo lo faremo sia a partire da Caltanissetta, lo faremo anche a Gela, ma in tutti i comuni della provincia. A causa della interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Gela a Aragona al fine di eseguire i lavori di completamento della nuova tubatura da martedì 25 a venerdì 28 ottobre prossimi non ci sarà distribuzione in contrada falconara nel comune di Butera. E ne dicono il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Sicurezza e ordine pubblico, maggiori controlli e potenziamento degli organici di polizia e carabinieri sono le conclusioni a cui è pervenuto il comitato preseduto dal prefetto a conclusione della riunione che si è tenuta in città nei giorni scorsi dopo gli ultimi attentati che hanno scosso la comunità gelese. E il titolo di apertura del telegiornale, il servizio è di Lucrezia Ferro. In prima pagina anche il richiamo del servizio di Nello Lombardo sull'ultima seduta consigliare e la rubrica settimanale politicamente scorretto di Giulio Cordaro. Per la serie Donne in politica, Zaira Placenti questa settimana intervista la consigliera comunale del megafono, Sara Bonura. All'interno Gianni Virgadaula ricorda Dario Fo e padre Labiso scomparsi nei giorni scorsi. Altre articoli di attualità e cultura di Cinzia Sciagura, Lucrezia Ferro e Nello Lombardo. Poi c'è lo sport con i servizi sul Gela Calcio di Orazia Comando e sul Terranova di Zaira Placenti. In ultima come sempre la pagina degli annunci economici gratuiti. Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita. Sono aperte le iscrizioni dell'anno accademico 2016-2017 all'Uni3, l'Università delle Tre Età di Gela, preseduta da Angela Scaglione e Altamore. I corsi attivati sono storia e filosofia, naturalmente, letteratura, giornalismo, informatica, lingua francese e inglese, arte e architettura nel rinascimento, laboratorio di arte creativa, la poesia ermetica ed erotica in Italia, storia patria, corso di medicina generale ed educazione fisica e ballo. Le lezioni si svolgeranno da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.00. Nei locali del liceo Eschilo di Gela per le iscrizioni bisognerà rivolgersi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30 presso il liceo classico Eschilo. Signor Sindaco, a caldo è finito il Consiglio Comunale, la mozione di sfiducia non è passata. Lei ha detto che il suo programma elettorale, il programma per la città è un programma che durerà 10 anni, ma si è fatto un auto-endorsement? Assolutamente no. L'Alleanza per la città ha elaborato con i cittadini un programma ambizioso che riguarda una città che da troppi anni è agli ultimi posti delle gradatorie di vivibilità. È un programma che chiaramente non può essere esaurito nel limite di un paio d'anni come è stata la discussione di adesso, né in cinque anni. Ma noi abbiamo come alleanza individuato un arco temporale di 10 anni, quindi di due sindacature. Io sto portando avanti questa, sto facendo il mio dovere e lo sto facendo insieme ai miei concittadini. Questa sera c'è stato un dibattito molto acceso, per certi versi anche molto interessante perché sono state portate avanti delle giuste istanze anche dall'opposizione per cercare di rendere ancora più efficace questa azione che ripeto è ambiziosa, cioè che mira a realizzare una città che sia allo stesso livello di altre città dove si vive una qualità di vita certamente superiore. Lo dobbiamo fare insieme, dobbiamo credere nelle nostre risorse, nelle nostre capacità, nella voglia di fare sistema insieme. 17 consiglieri comunali, il dato politico è questo, in questo momento non credono in lei. Come valuta questo dato? Io ho detto loro che io continuo a credere in loro, cioè nel senso che tutti quanti insieme dobbiamo realizzare quella politica della coesione che è mancata in questa città da sempre. Se noi siamo deboli politicamente è perché la politica si è sempre frastagliata, frantumata, frammentata per cercare sempre di tutelare interessi di parte. Io stasera ho detto ai consiglieri comunali che continuo ad avere fiducia in loro, fiducia nella volontà di realizzare una corresponsabilizzazione nel rispetto delle identità diverse, dei ruoli diversi, ma per realizzare una politica che miri a realizzare degli interventi prioritari e diretti per la nostra città insieme. Cosa succederà da domani? Io domani mattina sarò qui a lavorare, come faccio ogni giorno, per il bene della mia città. Aprirò dei tavoli con i consiglieri di opposizione che vorranno collaborare con la maggioranza nel individuare delle priorità per questa città e continueremo a rivolgerci ai cittadini perché questa attività amministrativa sia un'amministrazione aperta alla partecipazione dei cittadini. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio, aderisce lunedì 24 ottobre prossimo alla terza edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole. L'iniziativa è promossa dal Centro per i Libri e la lettura e dalla Direzione Generale per lo studente ed è finalizzata a portare la lettura nelle scuole in forme inedite, diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale. Grazie all'esperienza diretta con i testi e attraverso l'ascolto e il confronto con insegnanti, compagni e autori, ospite della giornata alle 10 nell'auditorium della scuola sarà la scrittrice Elina Maria Ugolini, poetessa e cantafiabe. Parteciperà all'iniziativa Elina Orlando, esperto esterno. Adesso parliamo di calcio. Partitona domani al Vincenzo Presti, di scena a Gela Palmese. Le due squadre stanno attraversando un ottimo periodo di forma e si trovano nelle zone alte della classifica. Vediamo. Da qualsiasi corrispettiva la si vede, la partita di domani è un big match, sì, una gara di alta classifica con due squadre che stanno facendo benissimo in campionato. Il Presti ospita Gela Palmese, cioè dire la sesta contro la quinta in gradotoria. I biancazzurri del tecnico Pietro Infantino accusano solo un punto di distacco dai calabresi. Ecco perché la partita di domani è considerata una gara da vincere a tutti i costi per la truppa tanto cara al presidente Francesco Tuccio. Vinciata significherebbe scavalcare gli avversari e consolidare l'ottima posizione in piena zona playoff. Non guardo mai la classifica, nel senso che se sono i playoff, se sono primo, se sono... Cioè abbiamo un obiettivo, questo credo che ce lo dobbiamo mettere in testa tutti, che è la salvezza. Prima mettiamo il fine in cascina, meglio è, e poi guardiamo quello che possiamo fare. Io ogni volta ogni domenica ti posso assicurare che non guardo la classifica. Non guardo cosa ha fatto quella davanti a me o quella dietro a me. Guardo cosa abbiamo fatto noi, se abbiamo fatto bene o male, se abbiamo sbagliato determinate cose. Che è la cosa che a me piace guardarmi in casa proprio. Davanti al pubblico di casa, dopo la sconfitta rimediata con Riggio Virtus di qualche settimana dietro, non bisogna più fallire. Il presti deve essere tabù per gli avversari. Domani c'è la Palmese, che è un avversario abbastanza tosto. Ci hanno un attaccante molto forte, come tutta la squadra, una squadra molto compatta, rognosa. E noi dobbiamo fare il nostro dovere. Soprattutto, come già ho detto spesso e volentieri, siamo a casa nostra, siamo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo dare proprio il 100%. Un campionato che potrebbe regalare soddisfazioni al club biancazzurro. Al fine di ottenerli, dicevo, la bisogna lavorare sodo. Prima raggiungiamo salvezza, prima ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Vediamo come siamo messi a marzo, a febbraio. Vediamo un attimino e poi dopo possiamo parlare di play-off, possiamo parlare di vincere il campionato. Perché è inutile che stiamo lì a pensare che è play-off, ora stiamo a pensare play-off. No, perché ricordiamoci dove eravamo due mesi fa e come eravamo conciati. Adesso stiamo parlando, non corriamo. Facciamo domenica dopo domenica. Facciamo che dobbiamo fare il nostro lavoro. Noi che andiamo in campo, come voi che siete lì tutti a sostenerci. E credo che ci toglieremo tante soddisfazioni perché lo stiamo dimostrando e lo state dimostrando anche voi che domenica scorsa è stato veramente bello. Parlo io a nome della squadra, a noi ci ha toccato veramente tanto perdere davanti a voi. Nel campionato di eccellenza, invece, trasferta per il Terranova. La compagine giallorossa sarà di scena a Castelbuono. La formazione allenata da Natale e Serafino cercherà l'acuto anche fuori dalle Muramiche dopo aver ottenuto domenica scorsa la prima vittoria stagionale dopo cinque sconfitte consecutive. Siamo allo spettacolo appuntamento con il cinema all'antidoto di Gela. In proiezione il film Go With Me sono due gli orari della programmazione, 19.30 e 21.30. Ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella Gela. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. Per informazioni bisognerà rivolgersi ai numeri di telefono 338-7143-293 oppure 330-225-442-0933-82-2707. L'abbonamento intero costerà 70,55 euro invece per i giovani. È una nuova stagione teatrale all'Eschilo di Gela. Dall'8 novembre prossimo è scene più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Per informazioni bisognerà recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Ci sono anche dei numeri di telefono 0-933-911-892 oppure 345-5880-580. Il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Noi abbiamo concluso. È tutto infatti anche per questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.